La prima domanda da porsi, probabilmente, è questa. Vale la pena spendere oltre 40 milioni per un giocatore come Federico Chiesa? La risposta, senza farsi travolgere dai sensazionalismi, è facilmente riassumibile nelle parole di chi, per lavoro, è abituato ad osservare i calciatori. Allenatori, direttori sportivi, perfino ex commissari tecnici. Un coro unanime. Sì, Chiesa diventerà un grande.